Ricorda Gino Strada, il fondatore di Emergency Mortoieri, Monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto, nel suo messaggio per l'assunta. Il presule ha espresso la sua gratitudine verso i fedeli, presidi di speranza in questo tempo difficile. Alba Di Palo. Una vita donata per gli uomini lacerati dalla guerra e dilaniati dall'arroganza dell'egoismo, un uomo definito una spina nel fianco dell'opulenta indifferenza di tanti. Sono le parole dell'arcivescovo di Bari-Bitonto, Monsignor Giuseppe Satriano, su Gino Strada, il fondatore di Emergency Mortoieri a 73 anni. Satriano, nel messaggio scritto per l'assunta e rivolto alla comunità diocesana, parla di una grave perdita per l'umanità perché abbiamo uno struggente bisogno di umanità, rimarca, evidenziando che avverte il desiderio di esprimere tutta la sua gratitudine per come, in vari modi, i vicariati della diocesi di recente visitati stanno provando a essere un presidio di speranza in un tempo così difficile. Satriano, dopo i giorni tristi della malattia, con fiducia, continua il suo pellegrinaggio attraverso i cuori, con l'intento di conoscerli e amarli meglio, scrive, apprezzando di sacerdoti, laici, religiosi, i gesti concreti che vi fanno essere vicini e solidali alle necessità della gente, testitori di vita, nonostante lo smarrimento provocato dalla pandemia. I giorni che ci attendono saranno preziosi per individuare percorsi protesi a continuare a vivere al meglio. La missione che il Signore ci ha affidato prosegue. A tutti chiedo il respiro della pazienza e la capacità di tessere un discernimento frutto dell'ascolto dello spirito e dei segni dei tempi. Citando l'intellettuale Ernesto Balducci, l'Arcivescovo ricorda che mentre il progresso mette mattone su mattone, nell'amore non si mette mai mattone su mattone, perché ogni mattone è il primo e dobbiamo sempre ricominciare ed è una vera sfida e in questa sfida prosegue sentitevi accompagnati dalla benedizione del Signore insieme alla gratitudine, la stima, l'affetto e la preghiera del vostro Vescovo.